Abbiamo insediato oggi la Commissione Lavoro dell'Ordine degli Avvocati che si rinnova negli intenti e nella volontà di collaborare con i colleghi che si occupano della materia del lavoro e della previdenza e di affrontare tutte le problematiche che si presentano nella sezione lavoro che è una delle sezioni particolarmente difficili di questo nostro tribunale. Abbiamo appunto parlato dei nostri futuri impegni sulle tematiche della sezione lavoro e sulla formazione che faremo con l'organizzazione di eventi quali il ciclo storico delle prassi di merito riguardanti la sezione lavoro con la collaborazione dei magistrati che presto verrà programmato e inizierà da settembre 2019. Quest'anno nella nuova composizione della Commissione particolare attenzione verrà data allo studio e al monitoraggio del compenso dei professionisti e in particolare degli Avvocati sulle liquidazioni che vengono operate in giudizio anche alla luce della attualissima disciplina sul equocompenso e sulla generalità del principio che si applica non solo alle determinazioni di tipo negoziale ma anche e in particolare alle liquidazioni giudiziali che ai noi molto spesso sono assai poco dignitose. Vorremmo affrontare con un primo convegno proprio sull'equocompenso degli Avvocati e probabilmente verrà già programmato nella prossima seduta della Commissione Lavoro che è stata aggiornata al giorno 24 luglio nella sala consigliare dell'Ordine degli Avvocati sempre alle ore 11.30 e vogliamo invitare a questo proposito i colleghi che ancora non si sono iscritti o non hanno potuto presentare la loro domanda di partecipazione alla Commissione vogliamo invitarli a partecipare ai lavori della Commissione mediante una domanda di partecipazione.